Cari colleghi, ho il piacere di invitarvi al prossimo evento organizzato in collaborazione con Professione Finanza il 3 dicembre alle ore 17. Parleremo di transizione energetica, un tema innovativo e davvero straordinariamente performante. Interverranno diversi ospiti, tra cui Luca Dalfabro, vicepresidente della Fondazione SNAM e fondatore del Fondo Italiano per l'Economia Circolare. Con lui parleremo di interessanti nuove energie di transizione, tra cui l'idrogeno, e coniugheremo il tutto in chiave di investimento ottimizzando alcuni portafogli finali. Vi aspettiamo numerosi e grazie mille.